Salve, oggi vorrei presentarvi una strategia con scadenza a 120 secondi, ovvero a due minuti. I grafici che andremo a utilizzare saranno quelli della piattaforma di Freak Store Chart. Io utilizzerò quelli sul sito www.opzionibinarie60.com nella sezione grafici. Gli asset che andremo a utilizzare per questi esempi saranno l'EuroUSD e l'USDCHF, con time frame a un minuto. Gli indicatori che ci serviranno per questa tecnica saranno l'RSI settato a 5 periodi e la media mobile settata a 3 periodi con 3 offset. Come inserire l'indicatore RSI? Andate nel menu Technical Indicators e selezionate RSI. Settate l'indicatore RSI a 5 periodi e la media mobile a 3 periodi con 3 offset. In questo modo, cliccate sopra la scritta RSI 50, uscirà una finestrella. Cliccate su Edit e usciranno i settaggi. Mettete periodo 5 invece di 50. Per settare la media mobile, cliccate su Moving Average 5, cliccate di nuovo, uscirà sempre la solita finestrella con Edit, cliccate su Edit e si aprirà la finestra dei settaggi. Scrivete Periodo 3, Offset 3. Ok. La tecnica è semplicissima. L'RSI deve incrociare la media mobile sotto il livello di 20 o sopra il livello di 80. Quindi, quando l'RSI incrocia la media dal basso verso l'alto, sotto il livello dei 20, investiremo a rialzo con scadenza 120 secondi. Quando l'RSI incrocia la media dall'alto verso il basso, sopra il livello degli 80, investiremo a ribasso con scadenza 120 secondi.